Sono colto, che succede? Presto venite, è terribile! Allora? Mi sa che quest'anno niente regali È una femmina, ha i capelli lunghi Potrebbe essere un IP del campeggio Sì, che si è vestita da Babbo Natale per vendere bracciali, che stupida Io credo che sia morto Prima l'ho visto respirare Quando? Non lo so, cinque minuti più o meno Mani, in cinque minuti ha avuto tutto il tempo di morire Uno può soffocare con il vomito e il sangue se ha qualche ferita interna Qualcuno ha visto invasione zombie? Cos'è quello? È una femmina e non è morta, l'avevo detto io Vado in paese ad avvisare la polizia Voi rimanete qui con lei Vengo anch'io Bel volo, eh, mamma Natale Voi rimanete qui in ciò